abistimung volevo riparare questo alimentatore perché mi serve sembrava simpatico regolabile anche lui trovato nella spazzatura però ho scoperto che un transistor aveva un piedino scollegato e quindi ho detto beh allora lo ricolleghiamo bene questo transistor però intanto l'ho aperto e dentro ho trovato questo lui non è proprio in buone condizioni però io penso che funzioni ancora la cosa interessante è il circuito che qualcuno ha toccato e ha reso non so come dire ha montato dei diodi di una potenza spaventosa poi ha messo queste tre resistenze in parallelo tra di loro poi c'è questa enorme resistenza da un ohm evidentemente adattata sembra che questo alimentatore sia stato modificato per renderlo super robusto sembra letteralmente autocostruito quindi non è più l'alimentatore probabilmente non è più l'alimentatore della cte perché questa scheda è totalmente autocostruita è proprio realizzata a mano e io non credo che la cte faccia delle schede così quindi beh che dire io voglio rimetterlo in funzione quindi qua si tratta secondo me di cambiare questo elettrolitico cambiare questo elettrolitico cambiare quest'altro elettrolitico che sotto sembra scoppiato perché perché evidentemente scoppiato io mi ricordo che questo coso funzionava però vabbè e poi rimontare tutto non so se sostituire questo ponte a dio di volante olocaustizzato con un ponte a dio di moderno però mi piace l'idea che c'è questo questo fidel castro di cavi che si fidel incastrano tra di l'ora a realizzare un ponte di odi da 300 ampere e vabbè adesso si tratta di recuperare quattro condensatori tre condensatori rimontarli rifare i collegamenti il potenziometro è ottimo l'indicatore lo strumento me lo ricordo funzionante per il resto è realizzato con abbastanza cura c'è pure un filtro qua sull'accensione c'è il diodo dice il fusibile di protezione che è integro non è fatto male se non che è fatto un po a cazzo però però non è fatto male dai insomma vedremo come va una cosa interessante riguardo questo condensatore 5 micro farad 15 volt questo è remontato qui su questi due piedini però questo a me risulta il negativo su tutti gli altri condensatori che ho appena toccato infatti è negativo è proprio il negativo e questo coso se ragioniamo in questo modo era montato al contrario col negativo qui è il positivo su quello che invece è il negativo che è questo ora io non so che integrato è questo ma dubito che qui ci sia una tensione negativa per cui lo si debba montare in questo modo motivo per cui è scoppiato come potete vedere è quasi esploso per cui io lo monterò come penso vada montato e poi vedremo cosa succede perché non ho lo schema non so che integrato è questo che è uno di quelli di una volta sarà un boh non ho intenzione di toccarlo perché ho paura che si spacchi nei piedini ed ecco fatto questo che era un un itt è diventato questo che è un nishikon ne ho recuperati quattro da una vecchia scheda stesso valore ho fatto i buchi e l'ho montato dritto come si deve potrei aggiungere un altro in parallelo però anche sti cazzi questo l'ho sistemato era questo qui questo era da 150 ed è diventato da 220 questo era da 5 ed è qua è diventato 4 e 7 con la polarità messa secondo me giusta e quindi vedremo che succede a questo punto devo solo riuscire a rimontarlo possibilmente senza spaccare questo che sembra essere un b d 267 del 1975 non ho idea di che cosa sia b c 267 b d v non mi piace la delicatezza di questi piedini però non si può fare molto cercherò di non romperlo e vabbè ok qua è tutto ricollegato ora questi diodi sono pericolosamente vicini alla parte di metallo ma credo che me ne fotterò questi cavetti vanno al transistor che qua dentro e me ne fotterò anche di lui questo trasformatore balla e potrebbe andare a toccare il polo della 220 volt qui ma credo che me ne fotterò questi cavetti dell'indicatore di tensione sono schiacciati dalla scheda di vetronite sulla parte di metallo qui oddio non sono proprio schiacciati ma potrebbero schiacciarsi ma credo che me ne fotterò detto questo a questo punto io proverei ad accendere vediamo un po che cosa succede ora se riesco a piazzare il telefono da qualche parte magari riesco anche a riprendere cosa succede vediamo vediamo se metto questo qua e appoggio il telefono così ecco scusate le riprese del cacchio ma purtroppo non ho molto va bene io intanto ficco la spina e non succede niente perché è spento ora lo accendo e ficco la spina e vediamo il botto non è successo niente è morto è completamente morto quindi tutto quello che ho fatto non è servito a niente è morto completamente non sia la spina no non è la spina è semplicemente morto vediamo se c'è qualche segno di vita sulle tensioni se sto coso si accendesse allora potrebbe essere lo strumento morto invece no non ha proprio un cazzo di niente non esce nulla proprio 0 esce 0 vediamo se si tratta del trasformatore io in teoria dovrei avere qualcosa lì niente niente acqua o 28 volte però qui o meno 28 volt quindi qualcosa succede però evidentemente qualcos'altro non accade ci sono 28 volte da qualche parte che non vanno da altre parti cosa mai sarà accaduto probabilmente questo integrato si è fottuto allora vediamo se questo è il negativo io qualcosa mi trovo niente qualcosa mi trovo niente qui mi trovo 28 volte sul collettore del transistor mi trovo niente sulla base e niente sull'emettitore quindi ho un transistor probabilmente fottuto ho un circuito integrato fottuto o qualcos'altro fottuto ad ogni modo questo circuito è in parte fottuto quindi quindi dovremo indagare ulteriormente e già non è che per caso c'è qualche uscita in alternata no c'è proprio niente non esce il niente in questo momento non ottengo il ottengo solamente il niente è un meraviglioso alimentatore da 0 volt è interessante perché entrano 220 ed escono 0 volt quindi è un secondo me è un ottimo risultato uno splendido alimentatore da 0 volt 0 volt 0 ampere mi piace mi piace molto questo alimentatore da 0 volt ora se riesco a non farlo esplodere dobbiamo misurare tipo da qua a qua e infatti ottengo 28 volt quindi io sul condensatore elettoritico gigante ho 28 volt ma non avviene una regolazione non c'è regolazia e se non c'è regolazia le cose sono due o quel transistore è arso o questo strano circuito integrato è in qualche modo partito visto come è combinato in generale questo alimentatore non lo so va bene vedremo aggiornamento sembrerebbe un LM723 che è un regolatore di tensione che scoperta eh ora io non so se qua posso fare delle misure ma ma ne dubito ne dubito allora visto e considerato che magari impariamo qualcosa ho controllato il transistor ed è un Darlington e funziona quindi il transistor funziona ed è collegato giusto ok ora io in uscita dal trasformatore se ci riesco con una mano cosa misuro cosa misuro con una mano facendo esplodere tutto e facendomi anche malissimo misuro 21 volt ok 21,5 mentre quando vengono raddrizzati questi 21 diventano 28 va bene questo è al contrario perché il positivo è qui ok 28 perfetto questi 28 si ficcano e sottolineo si ficcano dentro questo integrato che è un 723 LM723 e dovrebbero uscire con una tensione regolata che non esce vediamo un po' facciamo qualche misura mi sa che ci rinuncio perché perché non ho una torcia non posso farvi vedere ma questo 723 è collegato in modo strano ora sul sul pirlo qui io ho il pin numero 10 ok quindi sull'1 guardandolo dall'alto perché questa è top view ok da top dall'alto il pin 1 è quello da questa parte e il pin 1 è quello che mi va quindi ho qua il cosiddetto pin 10 questo ok e che chiama lui current limit che va sulla va sull'emettitore del transistor sul pin 1 io mi trovo l'uscita dei della tensione mi trovo il positivo che dovrebbe uscirmi sull'alimentatore ma il pin 1 qua lui me lo chiama current sense il che è molto strano cioè non ha senso il 2 va al centrale del potenziometro ed è inverting input il 3 non inverting input a questo punto va a fanculo dove va non mi interessa poi mi trovo il 4 qui il 5 a massa e il 5 mi corrisponde a massa e tra l'altro è collegato al case di metallo quindi mi corrisponde il 5 a massa qui poi il 6 che mi va al transistor quello esterno quello d'arlington poi il 7 e l'8 sono collegati insieme che sono vcc e v plus vc e v plus quindi questo è un negativo questo è un positivo vc non so cosa è il 6 sarebbe il v out ma io il 6 ce l'ho qua e il v out mi va al transistor che cosa cazzo c'entra il v out che dovrei trovarmi qua v out che quindi dovrei trovarmelo lì il v out e quindi dovrei trovarmelo qui il v out e quindi dovrei trovarmelo su quello che è il pin 1 che qua è il current sense visto che non ci capisco più un cazzo questo video finisce qui e comunque sì il video finisce qui ma io non mollo perché ho ordinato questo anzi questi perché ne ho preso più di uno per cui vedremo se il problema è lui vedremo presto ho trovato anche altre informazioni intanto qui lo vedo in vendita sul numero di cq elettronica di giugno 1974 lo trovate sul sito introni che ha un sacco di riviste storiche scannerizzate e quindi è lui però ovviamente niente schemi niente di niente inoltre ne ho trovato uno su ebay e ho una gran voglia di prenderlo però non c'è la foto ma dietro si vede il transistor e guarda caso se mettessi a fuoco BD142 quindi Bravo Delta 142 non BC è un BD142 e questo è in formato TO3 se non ricordo male quindi bello potente oddio per un alimentatore da 2,5 ampere per parte di ricambio anche questo in vendita 20 euro ce li potrei anche buttare chi lo sa attenzione attenzione colpo di scena ho trovato un paio di schemi e sembrano essere coerenti con quello che mi trovo nell'alimentatore solo che gli schemi hanno la piedinatura diversa perché? perché il mio alimentatore monta questo tipo mentre gli schemi montano questo tipo e i piedini sono di più in questo caso e la numerazione è differente quindi adesso io mi riporto la numerazione giusta qui nello schema e poi vediamo un po' di che si tratta però voi nel trattempo dovete fare una cosa dovete mettere in pausa questo video andare qui e premere questo maledetto like così dovete fare così dovete premerlo e dopo di che se volete fate il subscribe e se volete ancora accendete pure le notifiche così vi arriva qualcosa ogni volta che io faccio qualche stronzata praticamente vi arriva ok? se non volete fare questa cosa qua non fatelo me ne frego non importa l'importante è che fate un bel like così io non piango più perché se non ci sono questi io piango piango con la J piango lo posso anche scrivere piango e invece adesso vorrei commentare con voi questa parte del video perché ho sistemato lo schema e quindi adesso vediamo mi sa che ci rinuncio perché? perché sei un coglione ecco perché perché non ho una torcia non posso farvi vedere ma questo 723 è collegato in modo strano no non è collegato in modo strano manco per il cazzo ora sul pirlo qui io ho il pin numero 10 ok? e infatti io ho il pin numero 10 che è questo qua current limit giusto quindi è giusto quindi sull'1 guardandolo dall'alto perché questa è top view ok? da top dall'alto il pin 1 è quello da questa parte e il pin 1 è quello che mi va quindi ho qua il cosiddetto pin 10 questo ok? e che chiama lui current limit e infatti va sull'emettitore del transistor vediamo e infatti va sull'emettitore del transistor perfetto il pin 1 io mi trovo l'uscita della tensione e infatti è giusto e infatti è giusto perché sul pin 1 current sense ti trovi l'uscita perché questo è un sense e l'uscita esce da qua dall'emettitore e questa l'uscita che attraverso 0,1 ohm 5 watt va all'uscita l'uscita esce dall'emettitore però mi ritorna sul current sense attraverso questa resistenza vabbè sti cazzi andiamo avanti mi trovo il positivo che dovrebbe uscirmi sull'emettitore ma il pin 1 qua lui lo chiama current sense ed è giusto è giusto così imbecille il che è molto strano cioè non ha senso no no ha perfettamente senso guarda lo schema idiota il 2 va al centrale del potenziometro ed è inverting input e andiamo a vedere il 2 va al centrale del potenziometro ed è inverting input meno i n quindi è giusto il 3 non inverting input a questo punto vaffanculo dove va non mi interessa me ne fotto anch'io poi mi trovo il 4 qui il 5 a massa il 5 a massa mi corrisponde anche lui 5 di meno massa e il 5 mi corrisponde a massa va bene grazie al cazzo è collegato al case di metallo quindi mi corrisponde il 5 a massa qui ciao vaffanculo poi il 6 che ne va vaffanculo al transistor quello esterno quello darlington poi il 7 e l'8 e certo il 6 ovviamente se ne va alla base del darlington sono collegati insieme il 7 e l'8 sono collegati insieme e sono all'ingresso dell'uscita del trasformare all'ingresso dell'uscita del raddrizzatore per così dire che sono vcc e v plus quindi questo è un negativo questo è un positivo vc non so cos'è il 6 sarebbe il v out ma io il 6 ce l'ho qua e il v out mi va al transistor il 6 infatti è il v out e il v out mi va al transistor quindi che cazzo stai a di che cosa cazzo c'entra c'entra è perfetto il v out e quindi dovrei trovarvelo su quello che è il fin è un idiota 1 no idiota idiota imbecille cretino idiota sì te lo trovi anche sul pin 1 infatti perché sono connessi v out attraverso il 10 la resistenza da 0,1 ohm 1 questo è il sense è il current sense è quello che senza che senza la corrente lui senza senza questo lui non senza che qua è il current sense giusto quindi è giusto visto che non ci capisco più un cazzo e vabbè è ovvio che non ci capisci un cazzo se non guardi lo schema logicamente prima non ce l'avevo ora ce l'ho e ho capito tutto questo video finisce qui e no non finisce qui perché come vedete c'è la spiegazione dello schema questo coso ha senso io adesso sto aspettando i ricambi e vedremo un po' come andrà a finire e quindi che dire qui davanti alla ethernet siciliana direi che nel prossimo video probabilmente riparerò questo alimentatore non so quando questo video uscirà forse fra un mese forse fra una settimana chi lo sa comunque beh niente non c'è nient'altro da dire non c'è niente 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 che cosa non c'è niente